gentili telespettatori buona giornata roma è di nuovo di nuovo tra virgolette tra tra molte virgolette invasa dai rifiuti avete visto questa bella immagine di copertina ma quelle immagini di copertina attenzione io quando sono a roma la vedo tutti i giorni tutti i santi giorni spazzatura sulle strade addirittura ho trovato una volta della spazzatura transennata sapete come la scena del crimine avevano messo dei cosi di ferro con la plastica rossa intorno a un qualcosa una roba mai vista prima vabbè sulle chat dei telefonini dei romani ormai non circolano altre foto se non quelle dei rifiuti che stanno invadendo le strade di roma le segnalazioni dei cassonetti stracolmi di immondizia che invaso le strade della capitale sono centinaia e la situazione al limite tra il degrado nel vedere i cumuli e poi il brutto odore ovviamente perché ci si avvicina anche all'estate il caldo e così la raggi dice che comunque non è colpa sua è colpa della regione colpa è colpa di altri non è colpa sua e poi dice ma la spazzatura ma è solo un mese e mezzo che c'è come dire questa è una novità insomma e così il leader della lega matteo selvini testimonia con una foto su instagram una delle tante situazioni di disagio per via del mancato intervento di ama azienda che accaccia di impianti e sbocchi per gli scarti roma dice 31 maggio 2021 toc toc c'è qualcuno in campidoglio la domanda retorica sui social di matteo salvini il posto della lega arriva a pochi giorni dalla delibera di giunta con cui la regione lazio ha diffidato il comune di roma assegnando al campidoglio 60 giorni per l'individuazione di uno o più siti nel territorio della città metropolitana di roma capitale e di roma capitale idonea alla localizzazione e alla realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti per garantire l'autosufficienza della città metropolitana di roma capitale di roma capitale il tempo scorre è la situazione peggiora di giorno in giorno ma la cosa incredibile che la raggi in televisione diceva mica è colpa mia è che se hanno chiuso degli impianti di smaltimento io cosa ci posso fare io ho fatto tante cose per roma non so se l'avete vista anche nello raccontato nel video fatto proprio ieri su virginia raggi in televisione che continua a incensarsi ho fatto io ho detto io sono noi siamo voi siete essi sono però questa è la foto della capitale quella che vedete in copertina il degrado continua no sempre tipo la fine di la continuazione in un altro film no il degrado continua bene e c'è bisogno che una volta per tutte la capitale sia sistemata ma una volta per tutte scendono scenderanno adesso un po c'è un po di difficoltà ma scenderanno migliaia e migliaia e migliaia di turisti ogni giorno la capitale è la presentazione del nostro paese all'estero perché chi torna da roma al suo paese che l'ha visitata dice come ti è andata guarda tutto spazzatura una roba mai vista non è da paese civile si sparge la voce e poi sempre meno turisti verranno questa è la realtà che vergogna però uno stato che non è in grado di fermare il degrado della propria capitale incredibile è un qualcosa che non ci si fa l'abitudine poi abbiamo i sindaci che si pavone vanno in televisione a pavoneggiarsi e si ripropongono e si ripropongono perché credono di aver fatto un grande lavoro questo è il problema dei grillini che non sono consapevoli di quello che stanno facendo di quello che sono i grillini hanno questa supponenza io 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 ma io che cara raggi ma fatti un giro per la capitale e come fai a negare il degrado di roma è assurdo intanto poi ci sono dei retroscena su luigi di maio la svolta garantista mira a tagliare fuori giuseppe conte nel dialogo col pd ma io non credo più alla storiella che di maio sia contro conte no di maio è andato via lui si è dato lui le dimissioni da capo politico dei cinque stelle è stato lui ad andarsene via nessuno non c'è nessuno che gli ha fatto le scarpe se ne è andato bello tranquillo ha fatto il ministro prende i suoi bei soldi adesso c'è un nuovo modo di di ragionare o almeno quello che sembra e perché in cerca di una nuova collocazione politica lui sperava in conte che diventasse capo di un suo partito conte dove lui poteva prodare come parlamentare invece conte diventato diventerà forse il capo politico dei cinque stelle gli ha rovinato la festa di maio che pensava di aver già trovato una una soluzione alla sua prossima disoccupazione dalla politica ma adesso il fatto che ogni giorno ci sia di maio contro conte è quella di di maio contro conte è solo speculazione è fatto giusto per ipotizzare che di maio voglia concorrere con conte per la la guida del movimento 5 stelle no in questo caso quello di di maio e conte secondo me è tutta pura fantasia giornalistica per scrivere qualcosa mentre quello dei problemi nel centrodestra gravi che ci sono che vengono definiti come i giornali che lo fanno per dividere il centrodestra vi assicuro che i giornali sono proprio i giornali di centrodestra che parlano delle divisioni tra salvini e meloni ne parlano come ne parlano i giornali di centrosinistra pertanto non ci sono i giornali di centrosinistra che stanno cercando di dividere matteo salvini e giorgia meloni si stanno cercando di dividere da soli qui non c'entrano niente i giornali in questo caso bisogna dire le cose come stanno qui sono loro due con l'aiuto di berlusconi che stanno creando un bel problema al centrodestra non so come sarà poi risolvibile una situazione di questo tipo vedremo cosa succederà nelle prossime settimane nei prossimi giorni io intanto vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo nel prossimo video tra circa una ventina di minuti siamo anche in facebook nell'altro canale tele italia seconda rete mentre poi c'è anche l'abbonamento al canale è un euro al mese quindi 99 centesimi al mese per poter vedere un video in più al giorno intanto tra una ventina di minuti se volete ci vediamo per un altro video grazie a tutti e a presto grazie a tutti